È stato un successo l'Erasmus Day organizzato presso la scuola primaria Don Adriano Bragazzi dell'Istituto Comprensivo Maria Montessori di Terracina, registrate oltre 150 presenze tra docenti, dirigenti scolastici e personale ATA del territorio provinciale. L'iniziativa rientra tra eventi realizzati in Italia e in tutti i paesi europei nell'ambito delle giornate Erasmus finalizzate per dare visibilità al programma e avvicinare il territorio alle opportunità europee. Sono stati illustrati due progetti Erasmus Plus in fase di realizzazione. L'obiettivo è di incentivare la motivazione dello studio delle materie scientifiche attraverso l'uso delle opere d'arte e migliorare la collaborazione tra gli insegnanti e le scuole europee attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche. Un altro obiettivo è quello di permettere al personale dell'Istituto di frequentare corsi di formazione all'estero, Finlandia, Grecia, Malta, inerenti alla protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile. La prima volta che aderiamo a un'iniziativa Erasmus Days è nata un pochino per gioco ma in realtà avuto riscontro al di sopra delle aspettative. Ci sono più di 150 tra docenti e personale che comunque lavora alla scuola registrati e quindi veramente al di sopra delle aspettative. Per noi è un evento importante perché serve per diffondere le iniziative Erasmus in generale, del programma Erasmus in generale, per far conoscere i progetti che abbiamo in attivo e per simulare altre scuole aderire a tutte le opportunità del programma Erasmus+. Il programma Erasmus è il programma che apre le scuole e non solo le scuole, anche i centri di educazione degli adulti all'Europa. Quindi far conoscere l'Europa sul territorio italiano e questo qui è un territorio che sicuramente anche prossimamente nel futuro potrà sempre più aprirsi all'Europa a queste esperienze europee. Il ruolo della scuola è fondamentale e dobbiamo dire che negli ultimi anni sta crescendo sempre di più la mobilità nazionale e internazionale. Quindi noi come ATP di Latina vogliamo far sì che questa cultura dello scambio della mobilità, come diceva la dirigente, non soltanto dei bambini ma di tutto il personale della scuola, cresca sempre di più. I nostri ragazzi devono avere coscienza di quello che li aspetta per il futuro, collaborare insieme con le scuole, ricercatori, l'università, centri di ricerca per poter creare nuove opportunità e un nuovo futuro professionale per i nostri giovani ragazzi.